In quest'ultime settimane sono molti cittadini della provincia di Teramo che stanno ricevendo bollette del servizio idrico gestito dalla Ruzzoreti più elevate rispetto alla media. Un aumento che a detta degli uffici dipende dal fatto che nell'ultima bolletta sono inclusi il conguaglio e l'acconto. L'attuale governance dell'azienda acquedottistica ha precisato che la Ruzzoreti, dopo diverso tempo nell'ottica della riorganizzazione aziendale, ha messo in atto un'ingente attività di lettura dei contatori su tutto il territorio provinciale. Abbiamo ereditato dal passato una situazione in cui, per motivi che stiamo approfondendo, non si sono fatte con la giusta frequenza le letture imposte dall'autority, se non per zone e per porzioni di territorio. Immediatamente siamo intervenuti ripristinando una corretta regolarità dell'attività di lettura che ha generato, purtroppo, su un numero esiguo, ma non per questo non significativo, di utenze, stiamo parlando di circa 3.800 utenze su 140.000 gestite dalla Ruzzoreti, quindi su circa il 3% delle utenze, delle fatture con degli importi significativi, sicuramente molto al di sopra di quello che l'utente era abituato a pagare. Perché all'interno di queste pollette è presente un conguaglio di importi dovuti, ma mai fatturati dalla Ruzzoreti, negli anni precedenti. Cosa può fare la Ruzzoreti in questi casi? Sicuramente dovevamo operare leggendo, non potevamo continuare a perseverare nell'errore fatto nel passato. Siamo ampiamente disponibili attraverso tutti i nostri canali, quindi attraverso gli sportelli fisici, attraverso i canali del call center, attraverso i canali web, a qualunque forma di rateizzazione per durate anche importanti che traguardano i 2, 3, 4 anni che l'utente vorrà proporre. Questo per andare incontro al cittadino anche in un periodo così delicato che ci vede protagonisti e a fianco del cittadino. Grazie a tutti.